Sì certo, ma questo non è un problema, il sindaco è stato toccato anche un'altra volta e mi diceva, un sindaco può essere toccato ogni anno, ci serve un motivo per poter toccare il sindaco sulle mille cose che fa, io credo invece è stata una cosa simpatica, mi pare che anche se sono stati toccati non è lì il problema, davvero noi lavoriamo per la città ogni giorno e se magari anche attraverso un momento così viene un'occasione di pensiero, è gradita e si procede insieme. Tonco de Ponteserre, non è il bel cosiddetto, sì che per gli amici italiani seria il sugo del poggiolo, il sugo del poggiolo, questa è così.